Reaction al tutorial della spesa del programma del tuo fatto. Al mio tre procederò in questa reaction, metterò avvio, metterò play e questa è la mia reaction. Buona visione a voi tutti, uno, due, tre, via. Perché non portare i tempi in un'esercizio? Grazie. 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 oddio la gambetta gambetta alzata dio mio, dio mio non è normale niente pacco caduto oddio ah sì, facciamo vedere il pacchetto provarci alzi, perfetto oddio, andiamo avanti ah, ecco qua troiagine 120% troiagine 120% secondo me sia ben chiaro troiagine 120% secondo me il buonazzo, mamma mia mercificazione totale proprio mamma mia mamma mia, mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia, sconvolta grazie a tutti no, no, no non ci siamo proprio ragazzi cioè, sono veramente colpito o meglio, scioccavo da quello che ho visto ragazzi, secondo me è una mercificazione totale del corpo della donna cioè, proprio è un scusate la voglia, è un troiaio cioè, vai a fare la spesa poi ci arrepentiamo che avvengano le le attività di violenza e fisica in fronte di una donna caspita, ma dopo quello che ho visto oggi cioè veramente la mente che siete mai nei capelli e per chi è ancora lì ha in testa sono letteralmente scioccato completamente anni di vivo completamente colpito da ciò che ho visto non raggiungo altro ragazzi grazie a tutti vedetevi questo tutorial nel mio rete colpiti e a tempo stesso scioccati ciao da Leandro narratore italiano ciao